Ieri mattina, al termine di una lunga requisitoria, il Procuratore Generale Adriana Costabile al processo d'appello Corsi d'Oro 2 sulla formazione professionale ha chiesto al Collegio Giudicante presieduto dal giudice Alfredo Sicuro 12 aggravanti di pena rispetto alle 21 condanne combinate in primo grado con pene da 2 anni e 2 mesi a 12 anni. La modifica di pena più alta, che porterebbe la condanna a 12 anni e 20 mila euro di multa a fronte degli 11 in primo grado, è stata richiesta per l'ex parlamentare Franco Antonio Genovese, sul quale grava, come per altri imputati, il reato di peculato. Il magistrato d'accusa ha chiesto a gravi di pena anche per Elio Sauta, 7 anni e 10 mesi, Elena Schirò, 4 anni e 4 mesi, Votore Natoli e Stefano Galletti, 4 anni, Natale Presti, 5 anni, Graziella Feliciotto, 3 anni e 9 mesi, Carmelo Favazzi, 3 anni e 3 mesi, Natale e Carmelo Capone, 3 anni e 2 mesi, Giuseppina Pozzi e Concetta Cannavò, 2 anni e 2 mesi. Infine, la condanna a 3 anni e 6 mesi anche per il reato di associazione delinquere per Francesco Rinaldi, che in primo grado era stato assolto da questa accusa e condannato a 2 anni e mezzo. Rinaldi è l'ex deputato regionale cognato di Franco Antonio Genovese. Per gli altri imputati, l'accusa ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, sono accusati a vario titolo di associazione delinquere, riciclaggio, truffa gravata, frode fiscale. Gli imputati, attraverso prestazioni simulate, affitti gonfiati, noleggio di attrezzature e contratti di pulizia dei locali, in cui venivano ottenuti corsi di formazione professionali finanziati con denaro pubblico, avrebbero ottenuto fondi ex approvati dalla Regione, che erogava proprie risorse insieme a quelle statali ed europee. La parola ora passa ai difensori, che parleranno in diverse udienze fino al 14 di maggio.